Amici di contatto, eccoci arrivati per l'inaugurazione ufficiale della gelateria dell'Ais sabato 2 marzo e tra pochissimo con noi un ospite d'eccezione Sì, qui con noi questa sera Francesco Monte, a voi il servizio Eccolo qua, Francesco Monte è appena arrivato, dietro di me tra pochissimo entrerà all'interno della gelateria dell'Ais, l'inaugurazione ufficiale poi l'intervista ce la facciamo dentro, però nel frattempo salutiamo gli amici di contatto televisione Ciao a tutti amici di contatto Vediamo tra un po' dentro Come no? Vediamo tra un po' dentro Siamo pronti per il taglio del nastro ufficiale Prego, tagliamo Aperto ufficialmente la nuova gelatelia dell'Ais Aperto ufficialmente la nuova gelatelia dell'Ais sabato 3 marzo Aperto ufficialmente la nuova gelatelia dell'Ais sabato 3 marzo Francesco, è arrivato Francesco, è arrivato Francesco? Sì, la coppia vincente Guardali qua Aperto ufficialmente la nuova gelatelia dell'Ais sabato 3 marzo 2 francesco al prezzo di uno questa sera La nuova gelatelia del di tutto, semifreddi, coviglie, spumoni, crepes, tutto ragazzi, tutto, tutto, tutto se hai dieta però stai a interrompire prendiamo 4-5 chili stasera allora, ti lascio il microfono, continuate voi prendiamo 4-5 chili in comitiva, allora parliamo un attimo delle specialità così anche per capire qual è il dolce preferito di Francesco visto che oggi stopperà la dieta, elencaci un po' qualcosa, Francesco allora, le nostre novità sono le caprese, le delizie a limone e poi ovviamente parlando del gelato abbiamo gusti come pandistelle, ringo, rocher, gusti tutti giovani Montè, invece a te qual è che ti piace tra queste? tra queste che lui ha detto, ho sentito rocher c'è anche il kinder c'è anche il kinder come gelare allora facciamo una cosa, noi assaggiamo qualcosa nel frattempo ricordiamo anche dove si trova la gelatelia dell'Ais, che è importante allora, si trova in Via Repubblica e Marinare, a Barra Napoli, di fronte all'ufficio postale semplicissimo arrivarci, poi è anche bello grande, quindi è anche facile da vedere sì, come vedi abbiamo rinnovato, questo è il nuovo locale, ormai è più grande, è più spazioso e abbiamo inserito anche i dolci e vi aspettiamo qui, gelatelia dell'Ais, e su Facebook ci siete? gelatelia dell'Ais e poi c'è anche il sito ufficiale sì, www.gelateladelais.com e invece a te la fanpage qual è? Francesco Molto e basta perché ci sono 10.000 sì, ce ne sono un bel po' però quella ufficiale è quella pagina ufficiale è quella con, fortunatamente, 245.000 mamma mia, 245.000 vabbè un po' come anche la nostra pagina ufficiale che è contatto televisione Napoli aggiungela, mi clicca mi piace anche tu però anche tu lo devi fare, come noi clicchiamo noi restiamo in contatto, così e assaggiamo questa rochette contatto grazie a tutti e poi anche della proprietaria, buonasera buonasera signora, l'impressione che l'ha fatto Francesco appena che l'ha visto? è un bellissimo ragazzo allora, noi ci troviamo in una gelateria appunto qual è il tuo gusto preferito o i tuoi gusti preferiti per quanto riguarda i gelati? il bacio già lo sapeva la signora? e penso bacio, sicuro? il bacio, il bacio facciamo una cosa salutiamo gli amici che ci stanno guardando da casa e restiamo in contatto poi ci rivediamo tra pochissimo contatto la famiglia è al completo Francesco, Francesco Monte e moglie tutti quanti insieme la cosa stessa è che la moglie bacia Francesco lui e non lui ha sbagliato Francesco un Francesco vale l'altro quando mi abbraccio va bene gli abbraccio allora restiamo con gli abbraccio va bene qui senza baci solo abbraccio amici di contatto eccole arrivate anche le nostre maggiorette con la bando musicale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti anche le ballerine brasiliane sono arrivate carata vita buonasera ciao buonasera a tutti tutti i contatti come stai? tutto bene? sì tutto bene tutto bene qual è il segreto per ballare con questo freddo mezzo e nude? sì il segreto è il calore brasiliano che abbiamo da piccolina che impariamo in Brasile a ballare a si divertire anche con freddo si divertiamo vogliamo fare gli auguri appunto per questa nuova inaugurazione alla Gelateria dell'Ice? sì facciamo tanti auguri per questa inaugurazione a Gelateria dell'Ice è il numero uno in tutta la campagna il gruppo Samba Rio Show con voi con Contatto Television al proposito del nome del vostro gruppo ringraziamo anche Contatto Agency che ha organizzato l'intera manifestazione l'intera inaugurazione ovvio vi ringraziamo la nostra agenzia numero uno in campagna che ha portato Samba Rio Show qua per farci divertire a tutti quanti a Gelateria dell'Ice facciamo ancora tanti auguri a loro e ringraziamo la nostra agenzia Contatto Television così mettete il vostro rito vicino al mio Contatto grazie a tutti quanti grazie a tutti quanti grazie a tutti quanti Ma com'è questa cosa? Arrivano le brasiliane e improvvisamente compari tu Sì, quando stavo le brasiliane come fai a non venire? Guarda, hai capito che ti vuole addirittura coronare come protagonista d'eccezione dello spettacolo Diciamo che ti va Sono il personaggio ideale però Signora, come le sembra suo marito? Lo preferisco Calvo E per par condicio, ecco, già ti sei fregato il bacio Lo stavo per dire, tua moglie prima si è preso il bacio di Francesco E invece adesso se ne frega tu lui il bacio dalle brasiliane Vabbè, però l'ho fatto prima io Eh beh, la signora l'ho fatto prima con Francesco Monte Noi ne stiamo in contatto Mettete tutti quanti il vostro dito vicino al mio 3, 2, 1 Contatto!